Un dato allarmante da non sottovalutare quello emerso durante il forum sulla legalità alla Camera di Commercio di Palermo. La criminalità continua ad avere un forte impatto sull'intero tessuto economico italiano, sottraendo il 4-5% del prodotto interno lordo. Fondamentali dunque nella lotta al crimine organizzato sono l'impegno e la collaborazione degli imprenditori. L'Unione Camera per questo ha predisposto 52 sportelli di ascolto per aiutare anche nei casi di estorsioni e usura. Al centro del forum è stato affrontato anche un altro tema legato sempre alla legalità, quello relativo al futuro delle aziende confiscate. In Sicilia sono 623 con oltre 30.000 dipendenti, molte di queste affidate agli amministratori giudiziari. Ma spesso, dice il Presidente della Camera di Commercio di Palermo, 9 su 10 finiscono in fallimento. Noi dobbiamo fare in maniera che le imprese restino sul mercato e che non possano essere distrutte o da amministrazioni non valide. D'altra parte, quando gli amministratori hanno decine di impegni e poi il tuttologo che sa fare l'amministratore di un'azienda di calcio e strusso e contemporaneamente nel supermercato, io faccio un po' di fatica a pensare che ci sia. Quindi è chiaro che dobbiamo forse, è venuto il minuto, al di là della riforma della legge che va vista in tante cose, cominciare a pensare di affiancare all'amministratore giudiziario che deve curare quello che è l'aspetto giuridico dell'operazione in sé, dei manager di competenza specifica del settore. Grazie. Grazie.